Siamo qui ad InterSolar dove Ingetim presenta i suoi nuovi inverter IBIDI impianti residenziali firmati da Bertone. Troviamo alle mie spalle tre versioni, tre soluzioni diverse. Praticamente questa soluzione implementa inverter IBIDI a 6 kW e capacità delle batterie fino a 30 kWh. Inoltre questo inverter ha la possibilità della funzionalità dei carichi prioritari quindi in caso di mancanza di energia elettrica i carichi prioritari rimangono in funzione. Le versioni stilizzate da Bertone possono essere scelte e personalizzate dal cliente finale.